spesso soprattutto con e purtroppo da una parte con l'avvento dei social e di quelli che noi chiamiamo questi leoni da tastiera purtroppo quell'intelligenza spesso viene viene meno però un'intelligenza che porta anzi una mancata intelligenza che porta poi ad insultare l'altro a giudicare l'altro senza però pensare cosa quell'altro quegli altri che ovviamente vengono insultati possono provare e secondo me la storia che vi stiamo per raccontare dà il senso proprio a quello che stiamo dicendo e del livello infimo a cui siamo di fatto arrivati allora le inseriamo anche se vedo solamente uno di loro collegato a tradimento così a tradimento buon pomeriggio ciao mi sentite sì 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 molto bene benvenuto non so max arriverà arriverà sta arrivando ho avuto un attimo un imprevisto momentaneo due minuti arriva sta arrivando anche lui chiedo solamente di se possibile di alzare un pochino la la cam in modo tale perfetto abbiamo meglio benissimo benissimo allora ale allora perché ci sono brenno e max che tra poco arriverà perché sono protagonisti sono stati protagonisti di una brutta storia una storia in realtà che partita in maniera molto bella la loro storia d'amore postata ciao max ciao ragazzi postata postata sui social un un bacio davanti all'arena di verona e da quella foto veramente che mostrava amore in realtà poi è venuta giù una valanga di odio sui social a partire da facebook e ovviamente li abbiamo qui per raccontare quello che hanno provato loro e poi la reazione che hanno avuto nei confronti del degli hater e di questa brutta storia di omofobia ma è stata una bella esperienza quella di verona immagino siccola di verona assolutamente anche perché verona tra l'altro è stato proprio un piccolo frangente nel senso che noi siamo abbiamo fatto un viaggio a londra quindi poi siamo atterati a verona avevamo un'ora e mezza circa di di pausa prima di riprendere la coincidenza per tornare poi a casa e quindi da lì è successo abbiamo fatto una bella foto proprio cinque minuti che siamo stati all'arena poi siamo tornati a modena il giorno dopo dopo che la foto era già stata pubblicata su qualche problemino di connessione con con i ragazzi vediamo di ripristinarla ecco allora max calo di down di connessione bisogna rifare praticamente tutto quello che stavi dicendo perché la luce qua quindi ecco perché dovrebbe essersi ripristinata ne approfitto se spostate leggermente adesso lateralmente brenno così siete belli centrati entrambi ok dicevamo arrivate sostanzialmente in attesa di dell'autobus per modena giustamente dite facciamo due passi per il centro di verona visto che comunque è la città anche di romeo giulietta perché no certo e a quel punto ea quel punto abbiamo fatto questa foto che abbiamo che ho pubblicato su instagram e su facebook sui miei social e da lì è il giorno successivo appunto vengo a lavoro guardo un attimo due commenti ne leggo uno uno che non era neanche più cattivo c'era scritto l'immortacci vostra dice vabbè che io ho pensato oltretutto fosse un suo amico cioè nel momento in cui ho letto quello la sua risposta era stata cioè faceva ridere la risposta che ha dato max quindi ho pensato magari un suo amico che ci sta prendendo in giro così no per ridere in vacanza che siete via esatto anche io l'ho visto un po così iniziato vabbè dopo gli rispondo quindi poi finisco il turno lavorativo apro apro facebook e da li trovo vedo solo i miei amici all'inizio quindi poi mi rendo conto che era selezionata e più pertinenti facebook fa questa divisione di commenti quindi metto tutti i commenti e da lì c'è stata una roba incredibile c'erano tantissimi tu pubblichi tu pubblichi la foto su facebook quindi la vedevano solamente i tuoi contatti allora io un profilo aperto quindi in realtà chiunque vada sul mio profilo vede tutto il mio profilo però per andare sul profilo qualcuno mi deve segnalare in qualche modo e infatti io tuttora non capisco perché l'unica roba che io ho fatto lì è stato mettere il tag mettere il luogo quindi presso arena di verona centro una roba del genere ho scritto ce l'ho pubblicato e da lì è stato sì un sacco di messaggi poi mi sono anche divertito ti dico l'evità rispondere perché comunque era un italiano ragazzi che faceva è veramente ridere quindi c'erano delle h messe un po a sproposito così a caso tu hai anche diciamo trollato i questi commenti scadevoli che si sa che alla fine la prendi un po così no nel senso che quando abbiamo poi notato che i commenti diventavano sempre di più perché all'inizio appunto io almeno io pensavo fosse uno scherzo di un suo amico quando poi ho cominciato a vedere perché andava ogni tanto a controllare vedere la foto e vedevo che c'erano dei commenti sempre più cattivi piano piano cominciano a diventare sempre più pesanti cattivi e allora lì hai due straccia nel senso per come sono fatto io per come siamo fatti noi la prendi un po a ridere perché o veramente ti fai buttare giù da queste cose da delle cose così pesanti che ti dicono oppure la prendi a ridere la cosa è stata prendiamo a ridere ti mette un livello un po un po superiore con l'indifferenza e quasi anche perché poi sai se rispondi sono anche queste qua secondo me poi sono persone che se rispondi facendo comunque vedere che te la sei presa che ti ha colpito non fai altro che dargliela vinta questi continuano ma infatti io la prima cosa che ho detto lui dopo un po è stato cioè basta non diamogli più peso lasciamoli parlare lasciamoli sfogare appena finisco di commentare io ho scritto un solo commento infatti sotto in cui dicevo c'è semplicemente il mio pensiero su la gente frustrata che magari il mio pensiero quindi non ha nulla di meglio da fare che andare a commentare una foto con cattiveria perché sempre come la penso io una persona può esprimere il suo pensiero ci mancherebbe altro può non essere d'accordo può può dire quello che vuoi però da lì a mostrare cattiveria è un po diverso voi non avete tra l'altro stavo andando a controllare non avete bloccato infatti la possibilità di commentare poi a un certo punto ci avete pensato no no quello che io ho fatto è stato la mano che le persone commentavano segnalare qualche profil qualche profilo qualche commento di per sé anche lì è stato un po amaro nel senso che qualche commento è stato eliminato qualche commento no mi è stato proprio sai quando fai le segnalazioni dei commenti poi ti arriva il risultato della segnalazione alcuni risultati erano abbiamo rimosso quel commento per la maggior parte erano non abbiamo rimosso il commento perché non istiga odio non istiga violenza dei commenti brutti che sono comunque visibili c'era inutile secondo noi bloccare i commenti e per perché noi poi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto perché è giusto che si sappia cosa c'è in in giro cosa c'è intorno perché la gente usa tutto questo tipo di cattiveria quindi non aveva senso anche bloccare i commenti sfogatevi vediamo che gente c'è in giro mi viene da pensare che comunque le implicazioni non sono solamente giustamente voi vostro malgrado ma comunque è lodevole anche la reazione che avete avuto state anche sfruttando questa questa opportunità come diceva Brenno proprio per stigmatizzare una certa violenza verbale che che gira imperante devo dire una certa ignoranza superficialità tutto quello che vogliamo sembra quasi che la gente non aspetti altro di vedere una un gesto del genere che è un gesto di felicità e di amore da parte di due persone per poterlo leggere come una provocazione e quindi avere una sorta di legittimità nel potere insultare agire scrivere prendere questa 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 tastiera in mano e iniziare a sproloquiare e e questo purtroppo è un è fattuale come come dice crozza prendendo in giro feltri guarda caso nel senso che purtroppo è un dato incontrovertibile che c'è in questo momento però vi chiedo forse quello su cui possiamo visto che abbiamo prima abbiamo partito del festival delle buone notizie no cercando con un po di fatica di scavare dentro tutte queste schifezze in realtà forse il fatto è che sia il un target anagrafico per la maggior parte un po più alto quello che non vede l'ora di fare di avere questo tipo di atteggiamenti tra i giovani mi sembra ma chiedo a voi che la sensibilità sia un bel po diversa forse completamente differente completamente diversa comunque la maggior parte dei commenti sono stati fatti da persone dopo i 50 ecco mi ascendo anche un po con la media ma in realtà è forse anche un po superiore quindi i ragazzi giovani hanno preso tutti quanti le nostre difese c'è tutti chiunque un po più giovane ha comunque o almeno tutti quelli che scrivevano un italiano corretto hanno preso le nostre difese sì la cosa bella è stata anche quella cioè nel senso è stato vedere come sotto ogni singolo commento negativo ce ne erano cinque positivi che quindi ci davano supporto cioè quello secondo me è anche più importante è anche più importante dei commenti negativi commenti negativi sono stati 500 ma 700 sono stati commenti a nostro favore che comunque ci davano manforte e secondo me è molto importante quello domanda quando avete scattato la foto attorno a voi c'erano over 50 c'era in chiunque eravamo all'arena di verona figura noi siamo riusciti a fare una foto tra l'altro non è neanche la foto originale perché l'ho tagliato un attimino per eliminare delle persone perché volevo una roba un po più romantica però sì certo non ti dico che la piazza fosse piena no però comunque quelle c'erano diciamo c'era c'era un campione un campione rappresentativo degli over 50 e qualcuno vi ha detto qualcuno vi ha detto qualcosa assolutamente no questo fa capire una volta di più quanto schifo fate fate questi utenti che davanti alle persone cioè se davvero lo pensate davvero avete il coraggio perché non ce l'ho a dire le cose in faccia aspettate di avere uno schermo davanti una tastiera in mano per poter come dire divulgare questi pensieri e solamente questa dinamica fa sì che vi dobbiate interrogare su quanto effettivamente abbiano valore i vostri pensieri il problema si vai no dimmi 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 pure no vabbè ti faccio la domanda dopo vai vai non ti preoccupare ma dicevo il problema di queste persone secondo me più che altro è che non si rendono conto di quanto possono essere importanti questi commenti nella testa delle persone nel senso ne sono beccato due che obiettivamente se ne sbattono un po quindi il pensiero negativo degli altri me ne frega relativamente poco cioè io la notte dormito serenamente continuo a dormire serenamente però la mia domanda è se una roba del genere succede magari ci scrivono dei commenti così un ragazzo di 15 16 17 anni ma anche non solo di 16 17 ci hanno arrivato una testimonianza subito dopo il questo questo evento qua di un di un uomo comunque sulla 50 40 40 50 non mi ricordo l'età comunque non un ragazzino ecco che mi fa io non l'avrei presa così cioè se l'avessi scritto a me io non sarei riuscito ad agire così quindi questo fa capire che comunque indipendentemente da tutto nella norma sono lavoro quindi capita anche questo e e c'è indipendentemente anche dall'età questi commenti può fanno male c'è poco da poco uscito al cinema un film che parla esattamente di questo c'è però le persone si sentono comunque legittimate a poter dirla loro come la pensano e quando gli fai notare che sono messaggi d'odio la risposta è a ma avete messo una foto in pubblico cioè quindi l'avete messa pubblica quindi vi prendete anche accettati commenti negativi che commenti negativi non sono che non sono che ripeto finché uno esprime la sua opinione che poi di obiettivamente l'opinione l'esprimi se conosci una persona come fai schifo cioè senso però c'è comunque sia esiste modo in modo di parlare proprio per il fatto che diceva lui che ho detto tante volte le parole hanno un grande peso cioè lo sappiamo e delle parole dette a qualcuno che magari non ha la forza o non so di reagire o di prenderle in un determinato modo quindi di prenderle scherzando scherzandoci su anche sono veramente tanto pesanti la domanda che volevo fare infatti era proprio su questo perché voi avete sorridito dicendo che voi l'avete presa in questo modo però ovviamente altri potrebbero viverla in modo diverso sappiamo poi purtroppo questo cosa comporta e cosa porta magari qualcuno a fare io vi volevo leggere però un commento che arriva dal sindaco proprio di modena massimo mezzetti che ha scritto nel 2024 tutto ciò non può più accadere non è degno di un paese civile come l'italia un abbraccio forte ragazzi continuate a baciarvi a sentirvi a casa sempre lui dice non è degno di un paese civile come l'italia oggi l'italia che paese è un paese omofobo o si sta andando verso la giusta direzione allora secondo me l'italia non è un paese omofobo nel senso l'italia si io parlo della maggioranza dei cittadini almeno credo sia così poi spero più che altro secondo me non è un paese omofobo l'italia cioè io comunque indipendentemente dove vado mi sento sicuro cioè se vado che ne so giro per modena mi sento sicuro giro per bologna va bene ok bologna è molto avanti mi sento sicuro e ho fatto una vacanza un anno fa a napoli mi sono sentito sicurissimo cioè non ho mai avuto dei problemi nel mostrare chi sono quindi secondo me l'italia non è un paese omofoba ci sono determinate persone che comunque sono ancora arretrate e sicuramente non c'è un clima politico adesso che spinge verso questa direzione cioè verso l'inclusione soprattutto verso il spiegare cosa significa essere omosessuali cioè questa è una cosa che in italia non si fa e si dovrebbe fare sì forse dalle scuole iniziando a parlare ai più giovani ma è secondo me un lavoro che andrebbe fatto forse anche ai più anziani perché ma se non si sposta cioè se non si fa questo l'italia avrà sempre una parte importante di persone che sono omofobe cosa hai parlato scusami che ha detto che dice spesso lui le persone si sentono legittimate a fare questo tipo di commenti ad avere questo tipo di cattiveria il fatto di sentirsi legittimate deriva proprio dal fatto che siamo in un clima come dice lui politico che non voglio dire che istighi perché non istiga però rende le persone legittimate a farlo e si sentono legittimate a farlo questo è indubbio si vede purtroppo ogni giorno ultimissima domanda perché poi purtroppo dobbiamo correre ma sono pensieri e parole che abbiamo già speso se continueremo a spendere la vostra testimonianza è assolutamente importante ho visto un post di max no che proprio durante la giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne max dicevi che chiunque nutra pensieri di intolleranza odio verso chi sa essere più debole più fragile è perché ha un problema con il potere no al suo interno telegrafico ce la vuoi spiegare così si qual è una frase tra l'altro che non è neanche mia una frase che ho trovato su dei social qualche giorno prima tra l'altro e mi era piaciuta quindi l'avevo tra l'altro salvata e poi tu sai che c'è la metto era il giorno contro appunto la violenza sulle donne mi è sembrata una frase che andasse a racchiudere un po tutto sia la violenza sulle donne che la violenza in generale quindi era una frase che mi ha colpito particolarmente secondo me appunto è proprio questo cioè il fatto magari di non riuscire ad essere forti in un momento della tua vita cioè non riuscire magari essere aver subito qualcosa forse evidentemente ti porta poi a sfogare questa rabbia verso un altro tipo altre persone che per te magari sono la minoranza quindi ti senti un po più grande ecco a fare il debole cioè a fare scusami a fare il forte con i più deboli non so se mi sono spiegato ci perdiamo questa riflessione ne facciamo tesoro e spero di speriamo di ritrovarvi in futuro ragazzi magari per commentare questi temi però con come dire forti di un cambiamento un po di mentalità che abbiamo ancora ancora c'è bisogno di questa di questa di questa di questa di questa di rotta grazie mille ragazzi grazie a voi ciao ciao